buongiorno a tutti allora sono andato a controllare come sono andate le schedine e bollettine del gigione per quanto riguarda le partite che si sono disputate martedì mercoledì e giovedì campionato inglese coppa italia allora il campionato inglese la schedina ne azzeccate 6 su 10 d'altronde se il manchester united mi perde in casa con lo sheffield il celsi mi pareggia in casa col wolverento il no dove 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 il barley mi batte l'aston villa e l'ultima qual era qual era qual era everton e le chester mi pareggiano io ho messo l'uno due invece loro devono pareggiare per farmi girare le palle e quindi vabbè 6 su 10 diciamo che quella più che ho sbagliato che ci poteva anche stare visto che ho rischiato l'uno due era everton le chester però sinceramente le altre tre erano inaspettate soprattutto il manchester united che perde con l'ultima in classifica che ha preso pisellate da tutti è andata a mettergliela in quel posto proprio al manchester united veniamo invece alla schedina alternativa di cui ne ho prese 7 su 10 quelle sbagliate sono west brown vissiti dove avevo messo gol e era difficile infatti il city ha vinto 5 a 0 poi è sbagliato manchester no dove sono cos'è che ho sbagliato a chelsea wolverenton che ho messo gol finita 0 a 0 e infatti è quella che mi fa sbagliare anche tutto il resto e brighton full anche avevo messo ovvero un e mezzo anche quella finita 0 a 0 ecco ci sono due 0 a 0 che mi hanno fottuto e la terza che ho sbagliato era un gol che appunto non c'è stato vabbè 7 su 10 6 su 10 7 su 10 65 per cento siamo abbastanza ci possiamo stare dentro purtroppo avendo scelto delle schedine bollettine del gigione una partita che è finita 0 a 0 tutte le bollette inutile che vi faccio il rei epilogo sono andate a ramengo poi vabbè lasciamo perdere quelle delle filse perché giustamente il gigione è andato a scegliere le tre le tre partite con sorpresa che nessuno si aspettava quindi newcastle leeds l'avevo preso il 2 era bello libido il barley che mi batte la stone villa e sto barley sta cominciando a rompere i testi che tutte le partite in cui è dato per stress favorito va a cambiarti il pronostico adesso domenica magari lo danno ancora sfavorito di cassia e non lo faccio una vincente perde 4 a 0 perché è un classico poi ho sbagliato chelsea volverenton 0 a 0 quella è quella che mi fa sballare tutti i multigogli over e tutto quanto il gol casa gol ospite quindi già quella ti sputtana tutto e poi c'era manchester united sheffield che giustamente mi perde in casa ma come state ma come state non ho parole bene dopo aver parlato del campionato inglese che è stata una debacle ma naturalmente una debacle in cui sono usciti dei risultati che nessuno si aspettava perché adesso se qualcuno mi viene a dire ma io ci avrei scommesso che lo sheffield sarebbe andato a vincere a manchester dico vabbè sei il genio della lampada perché francamente lo sheffield l'ultima partita mi sembra perso 5 a 1 comunque andiamo alla coppa italia in cui mi sono illibidito perché ho preso tre bollette su sei e purtroppo però l'avevo detto la spalla non ha segnato e infatti quando ho fatto il la bollettina del gol casa gol ospite ho detto ragazzi attenzione perché la juventus col bologna ha vinto 2 a 0 quindi può darsi che magari anche la spalla il gol non lo faccia tenetene conto tanto più o meno pagano uguali mie testuali parole del video poi io naturalmente mi prendo la colpa che vi ho detto gol ospite però se qualcuno magari mi ha seguito ha fatto uno gol ospite e gol ospite gli altri e mette in saccoccia poi va bene gol piovere eccetera lì sono sbagliati non c'è non c'è nulla da dire il gol piovere è sbagliato per quanto riguarda juventus pal le altre erano tutte prese comunque andiamo sulle su quelle che ho preso allora bollettina delle fisse avevo messo 4 1 presi tutti e quattro 31 euro 08 di presa poi il multigol libidine perché sulla prima partita inter milan avevo messo multigol casa 2 4 quindi preso perché l'inter due gol gli ha fatti seconda partita juventus pal multigol casa 2 4 presa perché la juve ha fatto tre gol ma ne bastavano anche due terza partita multigol casa dell'atalanta 2 4 ancora ne ha fatti tre quindi saccoccia e infine la quarta il napoli ha vinto proprio 4 a 2 bello preciso multigol casa 2 4 presa quindi ho preso 38 euro e 66 che aggiunti al 31 e 0 8 fanno già 69 e 74 69,74 a essere precisetti poi schedina numero 3 o bollettina numero 3 che anche questa è presa con tutte le alternative perché avevo fatto il solito uno in spiovere eccetera eccetera io aggiungo solo 16 euro e 47 ai 69 79 85 86 euro 86 euro se uno ha seguito la base se qualcuno ha voluto fare le due alternative che andavano bene uguale perché ho scelto la juventus e la spal come fisse quindi mi andava a prendere più di 20 euro 18 e poi c'era anche la terza che pagava di più io sto schiscio però prese tutte tre quindi per un totale minimo di 85 euro che possono arrivare anche a 95 euro più euro o meno quindi con la con la coppa italia uno va a coprire anche le bollette della del campionato inglese che non sono arrivate e gli avanzano anche dei soldini quindi non mi lamento dai prendere tre bollette è sempre è sempre un piacere come diceva quello che da conoscere il cavalier condorelli cavalier condorelli è sempre un piacere detto questo ragazzoli allora le schedine bollettine le bollette per domani sera delle delle partite degli anticipi del campionato di serie a bundesliga liga e liguan sono già online le potete andare a vedere sono partite belle toste sarà dura che le azzecco tutte perché sarà dura non sono partite semplici soprattutto verso l'x fisso su torino fiorentina quindi x più gol rischione paura vedremo cosa succederà comunque la coppa italia mi ha dato soddisfazione doppia detto questo ci vediamo alla prossima ciao